Ostenza tranquillità il sindaco di Crotone, Peppino Vallone, che ieri ha ricevuto una busta anonima con un proiettile e un messaggio che lo invitava a farsi i fatti suoi. Non attribuisce gran importanza all'episodio, anche se il giorno prima, analoga sorte, era toccata al vice sindaco Arturo Cruiano Pantisano. Il Pantisano si è fatto i piedi sprovvisti, mentre faceva una pesciatezza di un muretto e l'hanno assaltato. Ma che fare? Su cosa succede? Per Pasquale. Pasquale, vi ricordate al senatore, parola del vostro sindaco, parola del vostro sindaco, e poi l'hanno cercato che si voleva occupare. Comunque voglio dire che forse sicuramente mi ricandiderò per la gioia dei crotonesi. Lo sapete? Peppino non mora mai. Sono come un Highlander. Sono un guerriero.